ciao a tutti bentornati su rudy io sono valerio albenzi non so se chiamarlo rudy show questo spazio patrizio mi piace rudy rudy night show rudy night show ecco ciao patrizio cacciari come stai bene bene certo mi aspettavo pure qualche balletta però qui vedo solo vedo solo barbe va bene dai ci facciamo andare bene al senso dai senti passiamo a introdurre i nostri ospiti che stasera sono tanti e anzi dovranno essere anche di più ma purtroppo riccardo a qualcuno problema tecnico speriamo riesca a risolvere durante la chiamata c'è con noi romanista razionale daniele dozzi ciao daniele buonasera a tutti buonasera a tutti bentrovati mi piace rudy show come nome mi piace vero sì sì e poi c'è benedetto greco match analyst più famoso dei social grazie grazie buonasera a tutti grazie per l'invito ragazzi sempre un piacere parlare con di calcio con gente che ne capisce beh grazie ecco grazie grazie qualcuno dovrebbe attaccare va bene saluto allora ciao ragazzi è stato un piacere è finita la sosta finalmente sta per finire la sosta dai tu dici sei sicuro perché dici che il maltempo può fare qualche scherzo giocare qualche brutto scherzo dai speriamo di no perché la voglia di tornare a vedere una partita della roma è tanta fortunati sono tanti però quindi il cinismo di romanista razionale qua la razionalità preferiresti un rinvio piuttosto che giocare devo giocare sotto l'acquazzone quindi diciamo che la il vantaggio tecnico lo perdo perché comunque se si gioca comunque il campo sarà abbastanza pesante bene che va con tanti infortunati dovrebbe giocare a pass ma tutte le immagini pastore in un campo pesante a genova ecco subito subito la critica gratuita l'attacco personale al giocatore vabbè io lo so perché tu hai detto dalla cina già te lo vuoi mettere in bilancio di che riconosco il conduttore il conduttore sono io il conduttore sono io quindi vi richiamo all'ordine innanzitutto vi ricordo che oggi sono esattamente 21 anni 21 anni da quel roma fiorentina che consacrò la stella di gustavo avie bartelt che è un giocatore è un giocatore fenomenale giocatore fenomenale del quale io mi innamorai perdutamente comprai a fantacalcio spendendo tantissimo tipo un quinto del mio budget per gustavo avie bartelt è un giocatore fenomenale che ci manca a me manca non so se anche a voi ma a me a me decisamente no anzi penso si tratti di uno dei peggiori attaccanti che abbia mai visto con la maglia della roma forse se non sbaglio non so con le quali ti assumi la responsabilità ti stai già tirando fuori il problema è che vado un po' a memoria arrivo lo stesso anno di vieri alla lazio si esatto più o meno gli stessi giorni è quello perché io mi ricordo la polemica comunque basta cazzeggio basta cazzeggio parliamo parliamo della roma di questo samp roma cosa vi fa più paura la nuova samp doria di ranieri oppure le assenze parto dagli ospiti quindi cominciamo da benedetto vai benedetto sì vabbè diciamo che dopo aver una samp doria io ero partito con proprio la mentalità tipicamente romanista di aspettarmi un samp stile real madrid adesso che c'è ranieri diciamo stile atletico quindi il livello rimane alto però al di là di questo diciamo di questo confronto e sappiamo che se chiamano un allenatore come ranieri le squadre è perché hanno problemi in difesa se hanno problemi in difesa chiamano lui di solito lui la prima cosa che fa appena arriva li sistema quantomeno abbassa il livello di abbassa le conclusioni ecco che che la squadra deve deve affrontare alza il livello dei giocatori che di solito sono stati male io penso scusate a a muriglio in difesa centrale che sta giocando malissimo ma secondo me non è di questo livello e mi viene di fare un paragone al fazio dell'anno scorso che ha fatto totalmente pena mi dispiace dirlo per sei mesi sette mesi poi arrivato lui è stato messo a suo agio giocatori come berezinski lo stesso murro giocatori che non sono di livello da squadra di ultima classifica e sicuramente li ripristinerà secondo me adesso da qui a dire se ci riesce in una settimana nella quale a quanto ho capito poi di meteo non sono bravo in una settimana in cui è stato pure difficile allenarsi a genova non lo so io mi fido di uno che ha vinto la premier league con una delle squadre più più scandalose gli ultimi anni anzi di tutto il secolo calcistico quindi purtroppo mi preoccupa questo arrivo solo per questa partita perché poi diciamo buona fortuna a lui come allenatore speriamo che quest'anno le uniche due partite che deve perdere le perda contro di noi mi preoccupo questa situazione poi mi preoccupo tutta la situazione infortunati infatti sinceramente il rinvio non mi dispiacerebbe dal punto di vista sportivo a perdere qualche giorno ritornare a giocare a casa tua e fare due partite in casa tua vedere anche gioco con questa maschera come si trova perché ancora non sono convinto di kalinic e vorrei gioco in campo assolutamente in queste due partite importanti e niente vediamo come affermo restando che se domenica si gioca la roma secondo me è una squadra che tecnicamente è superiore alla samba anche con pastore in campo nelle pozzanghere e niente speriamo bene io sono preoccupato da entrambe le cose e ci aggiungo il tempo come dicevo prima perché sicuramente in generale al di là di Ranieri che comunque ritengo un buon allenatore e sottoscrivo le parole di Benedetto ma in generale quando c'è un cambio di allenatore nella prima partita comunque i giocatori danno sempre un qualcosina di più perché comunque si vogliono far vedere vogliono far vedere al mister di essere squadra inoltre ci metto che secondo me la squadra di Fonseca la roma di quest'anno si adattava meglio al gioco di di francesco perché comunque quando trova spazi più aperti sa essere devastante basta guardare la partita col sassuolo De Zerbi è un bravo allenatore ma comunque è uno che fa giocare la squadra quindi lascia anche qualcosa alle spalle e alla fine tu te lo vai a prendere in più c'è il fattore infortunato il problema è che noi abbiamo tanti infortunati e tanti nella stessa zona perché comunque ti mancherà Pellegrini e ti mancherà ancora Undere che doveva rientrare e non rientra ti mancherà Mkhitaryan che sono comunque il diciamo quel terzetto che ti fa gioco no che crea anche la Roma al di là di Dzeko che rimane il il fulcro della squadra e quindi se ti manca si sente per quanto Kalinic possa salire di livello nel corso della stagione tutti noi ce lo auguriamo è improbabile se non impossibile che faccia che dia quello che dà Dzeko normalmente alla squadra quindi è una partita in questo momento piena di insidie e se proprio ci dovesse essere questo rinvio diciamo che me lo prenderei con il sorriso sulle labbra scusate io intanto stavo ridendo non perché sono pazzo ma perché stavo congedando Riccardo Cotumaccio via whatsapp perché non ce l'ha fatta no bandiera bianca non si riesce a capire allora l'ho congedato con un molto romanista grazie lo stesso ecco quindi allora purtroppo non c'è stata questa parte poi ecco magari la si ascolterà sì e patrizio vado io e mi preoccupa mi preoccupa sicuramente il tempo perché ma soprattutto perché temo il rinvio della partita io in realtà vorrei giocare vorrei che la Roma giocasse perché non mi fa paura la Samp con i cerotti che ha trovato che ha trovato Ranieri se non è una squadra abbastanza scarsa costruita male non so quanto riuscirà a dare lui in così poco tempo perché è arrivato veramente da pochissimi giorni quindi io ne approfitterei proprio perché uno non sopporto la classifica quella con l'asterisco che dice una partita in meno perché poi ti fa sognare che magari sei messo meglio e invece poi il recupero ti capita come capitò due anni fa in mezzo alla settimana gennaio quattro mesi dopo e poi perché secondo me oggi la Roma nonostante l'assenza può può dire la sua e onestamente io non rischierei Geco con la maschera perché subito dopo abbiamo due partite importanti sia quella di Coppa che con il Milan in casa quindi francamente anche i giocatori che sono arrivati all'ultimo e che abbiamo esaltato cioè che ci hanno fatto migliorare anche il voto il voto del mercato della Roma oggi devono devono rispondere quindi chiamo Kalinic in questo caso e quando sarà Mkhitaryan quando lo rivedremo in campo a farci vedere che non ci sbagliavamo quando abbiamo dato set al mercato della Roma sei e mezzo sette proprio perché sono arrivati loro all'ultimo negli ultimi giorni ora loro devono devono farci capire che abbiamo fatto bene a dare quel voto quindi io spero si giochi onestamente ok benedetto tu lo rischieresti Geco oppure pensi che sia meglio farlo riposare troppo rischioso no no ci sono due partite troppo importanti a ragione patrizi cioè la partita di giovedì non non si può sottolutare stiamo parlando se non sbaglio il Gladbach ecco chiamiamolo così è capolista forse in Bundesliga o comunque in zona non è una squadra sottolutare non è che la vittoria del Wolfsberger lì ci deve far pensare come sempre vabbè vengono qua giochiamo facile secondo me sarà la partita decisiva di questo girone il Milan figuriamoci non lo so io poi giustamente sono sicuro che lui si è abbelenato perché ha saltato due partite in nazionale terribili una di questa l'ha persa la Bosnia e non credo sia quella che la quasi la condanna non andare gli europei quindi immagino che sia avvelenatissimo proprio immagino che scendere in campo deciso però anche non so fisicamente sta maschera lui che è uno che gioca molto gioco aereo quanto lo può sminuire nel suo gioco deve essere convinto di giocare con sta maschera di scendere in campo di essere al suo agio quindi no non lo rischierei poi insomma questo attaccante l'abbiamo preso per un motivo questo secondo attaccante può giocare Sampdoria a Roma un giocatore come cani secondo me tanto scusate tu maccio mi ha scritto che si sta uccidendo quindi io non so forse per il caso di interrompere per fargli una telefonata perché non vorrei sono un po' ragazzi io vi devo io vi devo salutare purtroppo ciao Patrizio vi auguro buon proseguimento ci sentiamo domani ci leggiamo su Rudy ci leggiamo ovviamente sulle vostre pagine social di riferimento che tanto dopo Valerio ricorderà ciao a tutti buona serata buona serata buona serata ciao ciao bene siamo siamo rimasti in tre siamo rimasti in tre quindi ritmi più blandi più rilassati che cambi vi aspettate da Ranieri vi aspettate di rivedere una Sampdoria con 4 3 1 2 Daniele? bah o 4 3 1 2 o un ritorno addirittura al 4 4 2 io mi aspetto un quagliarella più incisivo perché secondo me il cambio il cambio di allenatore può può favorire un ritorno di quagliarella che obiettivamente con Di Francesco è andato male non era il quagliarella della scorsa stagione né né delle stagioni presenti è un attaccante che chiaramente sta andando verso il finale della sua carriera e quindi potrebbe avere potrebbe anche avere un calo per questo motivo ma è un attaccante che a me poi lo dico tu prima parlavi di di Bartelt io lo dico di quagliarella è sempre piaciuto moltissimo e l'ho preso in parecchi anche in parecchi fantacalcio perché comunque è un attaccante di quelli da medio alta classifica secondo me che anche nelle stagioni negative ha sempre fatto il suo comunque non è mai andato sotto un certo livello medio e invece nelle prime partite con Di Francesco quest'anno era sotto il suo anche il suo livello standard e secondo me Ranieri potrebbe potrebbe rigenerarlo ed è un cliente scomodo è un cliente scomodo per Smalling e Mancini che credo saranno la coppia centrale confermata e quindi questa cosa un po' mi preoccupa per il resto io non so quanto in una settimana un allenatore riesca ad incidere lo dissi proprio per Ranieri la scorso anno quando venne a Roma lavori più sulla testa in una settimana che poi effettivamente sul gioco perché non credo si possa incidere così tanto se non disponendo la squadra un po' più coperta quindi è semplicemente un atteggiamento più diciamo così difensivo basso rispetto all'atteggiamento che aveva prima ma non mi aspetto di vedere un gioco della Sampdoria ancora anche perché lo ritengo poco possibile Veneto tu prima accennavi a qualche cambiamento che ti aspetti da Ranieri ma il ritorno al rombo secondo te è possibile ce lo dobbiamo aspettare oppure forse un po' presto secondo me nelle prossime in questa per me si mette 4-4-2 4-4-2 toglie 4 mediani subito toglie l'uomo di qualità in mediana che verosimilmente sarà Ramirez in mediana sulla tre quarti poi io spero Maroni che esca questo giocatore mi è sempre piaciuto e l'ho seguito prima che arrivasse in Italia credo che alla fine la squadra se vedete è costruita per giocare con due attaccanti cioè per me è stato assurdo questo cioè allora abbiamo vissuto due soneri Di Francesco e Giampaolo Giampaolo poteva tranquillamente continuare a restare dove era giocare con il rombo addirittura gli hanno comprato pure un paio di giocatori che gli facevano pure comodo e invece Di Francesco sarebbe stato perfetto o quasi per la rosa che è il Milan cioè una squadra che gioca 4-3-3 gioca molto sviluppando con triangoli gioca esternamente probabilmente Suso gli sarebbe piaciuto tantissimo invece al momento forse neanche Pioli sa cosa farne visto che gioca con un altro stile di esterni cioè una situazione paradossale comunque tornando a noi io credo che andrà a giocare con Gabbyadini e Quagliarella che non farà neanche tutto questo pressing io mi aspetto che gli attaccanti andranno a stare lì sui nostri mediani probabilmente uno dei giocatori che dovrà spiccare di più sarà Rigoni che secondo me è un giocatore anche lì che deve uscire non era malissimo l'anno scorso all'Atalanta però non aveva detto non ci fece male l'anno scorso? eh sì appunto la migliore partita la fece all'Olimpico Rigoni nel 3-3 della seconda giornata sì che fece? Doppietta quel giorno? se non ricordo male o doppietta o gol e assist comunque fece una grande partita sì quindi io mi immagino questo ecco che lui in questa partita giochi addirittura per due risultati su tre poi vado a sviluppare ma non ce ne frega più niente ovviamente vado a sviluppare il rombo poi faccia come vuole mi fa piacere ripeto che è tornato ad allenare però domenica o eventualmente quando sarà a dicembre a gennaio assolutamente vediamo ci concentrano più solo a Roma sì sì la sensazione forse poi è che di Francesco non fosse scattato il feeling né per quanto riguarda lo spogliatoio né per proprio con la società non era scattata quella scintilla tant'è sono d'accordo quando dici poi che la rosa del Milan in realtà sarebbe perfetta per il gioco di Francesco quindi sarebbe stato un cambio perfetto Gian Paolo Di Francesco chiaramente le regole non lo consentono che cosa vi aspettate da questo secondo blocco di partite che comincia prima di un'altra sosta perché sarà un blocco con innanzitutto partite ravvicinate ogni tre giorni ma un blocco nel quale la Roma affronterà partite di un livello superiore rispetto a quello precedente perché affronteremo oltre al doppio impegno col Borussia Mönchengladbach anche squadre come il Napoli il Milan la Sampdoria che comunque è una squadra che ha una classifica diversa probabilmente da quella che è il suo reale valore Daniele che cosa cosa ti aspetti dalla Roma quali i miglioramenti quello che mi aspetto è che faccia quel passo ulteriore che le manca per diventare la squadra di Fonseca vado a spiegarmi abbiamo detto la scorsa settimana proprio qui che la Roma era esattamente dove mi aspettavo che fosse a questo punto della stagione chiaramente la crescita della squadra deve continuare in questo senso però sono preoccupato dai giocatori che mancano perché comunque questi infortuni potrebbero rendere più difficoltoso questo step ulteriore che deve fare la Roma per arrivare a compimento come squadra proprio a sbocciare come squadra ripeto noi paghiamo moltissimo il fatto che mancano tutti i giocatori nella stessa zona di campo che è la zona dove poi nel gioco di Fonseca si è richiesta la fantasia cioè si crea l'occasione cioè l'azione è fatta per arrivare là sulla tre quarti con questo diciamo semicerchio intorno a Dzeko e lì ti mancano ti mancano giocatori importanti perché Pellegrini abbiamo visto proprio in questi giorni è uscita una statistica il giocatore che crea di più nella Roma Mkhitaryan è un giocatore che crea e ti stanno mancando e ti mancheranno Undere c'è stato poco dovrebbe rientrare Perotti non vorrei che questi infortuni barra rientri quindi comunque ci vuole un po' per carburare rallentassero questa crescita in un momento in cui la Roma deve dare questo nuovo input questa spettatura e sbocciare come squadra dall'altro canto mi aspetto però e questo invece secondo me si è visto anche nelle ultime partite prima della fine della sosta diciamo prima della sosta il miglioramento in fase difensiva devo dire quello per me secondo me si è visto chiaramente si è visto chiaramente già col Bologna dove rigore a parte poi possiamo parlare ore per dire se quel rigore c'era o no per me no ma comunque quello quello è il Bologna ha creato pochissimo il Lecce ha creato pochissimo il Cagliari che comunque è una buonissima squadra a Roma ha creato pochissimo ma veramente poco io non ricordo né azioni clamorose né parate di Paul Lopez benedetto mi potrà aiutare con i numeri ma non credo il Cagliari e questa cosa mi piace perché vuol dire che la Roma quantomeno ha acquisito una certa solidità difensiva e in questo io ripeto secondo me grosso merito va anche a Smalling che è arrivato e si è imposto si è imposto come il leader della difesa e non era banale e continuo a dire come mi aspettavo da inizio anno che il suo il giocatore che giocherà al suo fianco sarà Mancini più di Fazio perché comunque interpreta il ruolo con quell'aggressività in avanti che vuole Fonseca e che Fazio non ha proprio come come caratteristica quindi chiudo rispondendo alla domanda cosa mi aspetto che la Roma sbocci però qualche timore degli infortunati l'ho guarda poi magari nei commenti al video metteremo un bellissimo grafico di Francesco French su Twitter che mostra proprio bene l'incidenza di Pellegrini nel gioco della Roma quindi quanto questa assenza purtroppo pesa nell'economia del gioco della Roma Benedetto da un punto di vista tattico che cosa ti aspetti da questo blocco di partire della Roma di più solidità allora solidità io innanzitutto mi aspetto un po' di continuità in difesa che giochino Fazio e Mangini scusate Smalling di più insieme quindi quella è la tua coppia anche per te al momento sì allora su Smalling io sapete che proprio storicamente ancora ho sempre tentenno aspetto speriamo spero ogni volta che fa un contrasto esce va bene va in intercetto io riprendo morale e spero sempre di più che i miei tweet passati qualcuno mi li venga a rinfacciare lo spero me lo auguro tantissimo aspetto quel momento della fine stagione in cui mi dici ah guarda che idiota hai scritto questo su Smalling io ti dico su Smalling io ti dico meno male però ho visto che in queste partite in effetti come diceva Daniele i due si sono mossi bene parlano tantissimo Mangini sembra proprio uno che rompe sembra proprio uno che parla tantissimo che indica deve migliorare tanti aspetti del suo del suo gioco ma è giovanissimo anche lui e ce lo scordiamo forse e quindi mi aspetto che diano continuità alle loro prestazioni perché una coppia difensiva che giochi tanti minuti tante partite è importante per una squadra che gioca come la nostra che gioca alta che gioca di equilibri molto febili molto piccoli in transizione soprattutto e poi cosa mi aspetto mi aspetto che il mister trovi questo piano C perché il piano A di questa squadra era mettere tanti rifinitori sulla tre quarti creare tante di quelle linee di passaggio tante di quelle possibilità di sviluppare l'azione che a un certo punto facevi 4-5 gol anzi 4-5 occasioni da gol nette a partita partite stile Roma Sassuolo in cui se tu vedi scende un alieno che conosce sul pianeta Terra e conosce solo De Bruyne e ti dice quello è De Bruyne non è Pellegrini perché la partita che ha fatto contro il Sassuolo De Bruyne e i suoi numeri a proposito del grafico di French sono da De Bruyne tu prova a togliere un giocatore del genere una squadra che comunque storicamente ha sempre problemi negli ultimi 15 metri noi abbiamo sempre avuto giocatori offensivi forti fortissimi ma davanti la porta abbiamo veramente mangiato sempre tanti gol quindi il piano A è sempre questo il piano B da sempre da quando è arrivato Edingeco è diamo la palla a lui che tanto spalle alla porta è un trequartista dentro l'aria è un numero 9 è uno dei migliori della storia della Roma i numeri anche lì ci danno una mano piano C qual è? vediamo potrebbe essere non bloccare più il terzino in fase di costruzione salire con due esterni provare a rischiare pazienza se prendi un gol in più ma ne fai tre in più io sono più contento se mi portano i tre punti poi lo so poi pareggi tre a tre come contro il Genoa e ti incazzi però qualcosa ti devi fare non si deve essere troppo sterili poi devo dire contro il Cagliari abbiamo avuto non so quante occasioni lo stesso gol di Kalinic è nato in un modo in cui si vede che c'era tanta gente dentro l'aria insomma credo che anche con tutti gli infortunati anche con Pastore che lo so che siamo ormai tutti un po' sfiduciati ma un giocatore che negli ultimi 20 metri ti può fare l'ultimo passaggio magari in determinate partite meglio di no però in altre partite che giocheremo in questo quanti sono in questi giorni in queste partite una ventina di giorni una ventina di giorni io credo che questo giocatore contro l'Udinese possa giocare contro il Parma possa giocare non dico 90 minuti ma 60 poi non vorrei dipendere da lui per carità come non vorrei dipendere da tante cose ma ce l'hai ti pesa sul bilancio ha quello stipendio lì ha comunque secondo me un suo perché come calciatore poi io sono innamorato degli argentini in generale quindi si notava come? si notava si notava in 15 minuti di trasmissione ho detto tre nomi di argentini due dei quali sconosciuti non è un bel momento però per l'argentina come talenti perché hanno il giocatore più forte del mondo però per il resto sono un po' in difficoltà da qualche anno da questo punto di vista sentite invece andrei su Zaniolo perché oltre al fatto che personalmente mi aspetto molto da Zaniolo in questo blocco di partite però si è parlato tanto di lui questa volta non tanto in chiave di mercato quanto di futuro tecnico perché lo abbiamo visto giocare esordire dal primo minuto con la nazionale da mezzala nella Roma non esistono le mezzali quindi probabilmente non verrà mai insomma non verrà chiamato a fare quel ruolo però vi chiedo nella Roma innanzitutto qual è secondo me il ruolo ideale per il futuro di Zaniolo sia e poi il ruolo che pensate che sia più giusto nella Roma e nella nazionale Daniele io lo dicevo anche l'anno scorso per me lui è una mezzala alla Gerard occhio è lei non che sia Gerard adesso per carità di Dio non voglio dire questo però come tipologia di giocatore secondo me Zaniolo dà il meglio di sé in quella zona di campo dove può usare il suo fisico per il recupero pala quindi facendo anche la fase difensiva ma soprattutto inserendosi poi in fase avanzata il primo gol dell'Italia che fa Bernardeschi su quel contropiede chi attacca la porta è Zaniolo io non so se ci avete fatto caso lui porta via il centrale quindi lasciando lo spazio indietro Bernardeschi che si ferma prima al limite dell'aria e quello secondo me Zaniolo ce l'ha proprio innato quel tempo di inserimento di andare dentro ce l'ha innato quindi secondo me il suo ruolo è quello nella Roma attuale come dicevi giustamente quel ruolo non c'è e quindi lui può giocare come sta giocando in questo momento cioè o perché in realtà si mette sempre uno al centro in realtà sono i due trequartisti che occupano l'half space destro e uno che occupa l'half space sinistro e secondo me può giocare indifferentemente e da una parte e dall'altra perché poi l'ampiezza è coperta da Klaivert da una parte a destra di solito e Kolarov dalla parte opposta quindi secondo me anche come mettono la Roma quando danno la formazione con Umerelli in realtà lascia un po' il tempo che trova perché poi in fase offensiva quello che risulta trequartista centrale e uno dei due esterni quello che non è Klaivert in realtà giocano nella stessa zona una a destra e una a sinistra sono trequarti sono i due giocatori che vanno ad occupare la trequarti è il ruolo perfetto per Zaniolo ripeto secondo me no il ruolo perfetto il ruolo no perfetto diciamo ideale per Zaniolo secondo me è la mezzala io ti ci metto pure che in estrema emergenza secondo me con quel fisico lui può fare anche il falso nove io sono abbastanza convinto che sfruttando quel fisico enorme che ha che per lui è un vantaggio incredibile secondo me si nomina sempre poco il fattore fisico per Zaniolo perché è quello che di lui nonostante l'età lo fa già giocatore perché lui con quel fisico che sa usare benissimo e questa è la cosa che quasi stupisce perché lo usa proprio da veterano si crea degli spazi che non sembrano non esserci quella è una del secondo me forse in questo momento la sua qualità principale mi hai detto sì questa cosa la sottoscrivo assolutamente cioè la cosa migliore che fa è usare il fisico per superare l'avversario tenere la palla far salire la squadra e basta abbiamo già detto molte cose importanti per un calciatore offensivo secondo me parlare di ruolo è riduttivo ormai ci sono dei calciatori in Europa che sono identificati per funzioni che funzioni hanno all'interno della squadra oddio adesso non vorrei fare il pippone matematico fisico non c'entra funzioni che intendo un allenatore guarda questo giocatore lo allena e dice allora sto ragazzo è bravo a correre perché in effetti si ha spazio avanti è fortissimo a correre anche contro avversari che sono più forti e più esperienti di lui sto ragazzo è bravo a difendersi col corpo nel dribbling è bravo non sembra ma dal fisico è bravo è alto è possente deve migliorare sul piede d'epole deve migliorare nell'ultima scelta nell'ultimo passaggio non perché secondo me è egoista ma perché non ci arriva lucido mentalmente e si deve allenare e ci scordiamo sempre che un anno fa Zagnolo non esisteva per il calcio professionistico un anno fa un anno e qualche mese fa non esisteva quindi è bravo a fare tutte queste cose dove è meglio che le faccia in quale zona del campo generalmente nella zona centrale generalmente nella zona laterale la sua partita migliore l'ha fatta come ala destra come esterno destra di un 4-2-3-1 Roma-Porto 2-1 ce l'abbiamo tutti negli occhi per due settimane si è parlato di dargli la 10 però poi lo vedi come dice Daniele in effetti ti dà la sensazione di essere una mezzalà di quelle che può diventare nel giro di 10 anni uno dei migliori giocatori italiani e Mancini che non è uno stupido uno sprovveduto lo ha capito come Di Francesco lo ha capito molto prima lo ha preconvocato quando ancora lui non aveva giocato secondo me è un calciatore che crescerà in un calcio come questo in cui io torno sempre non so perché a De Bruyne o comunque a Manchester City in cui tu vedi che De Bruyne vedi lo schermetto iniziale 4-3-3 De Bruyne mezzala poi guardi la partita dove è mezzala perché una volta è solo a tre quarti una volta da ampiezza a destra la maggior parte dei passaggi chiave le ha dati di là poi una volta ti fa il centro avanti la seconda punta un'altra volta ti fa il mediano e sempre il primo a recuperare la palla un'altra cosa importante che avevo dimenticato che sa fare bene Zaniolo aggredire in avanti e questa è una cosa fondamentale nel calcio moderno quindi secondo me andarsi a a pensare ma dove può giocare meglio Zaniolo di qua di là per come lo fanno i giornali di oggi è semplicemente sprecare carta per come lo fa lo fate voi anche su Rudy è ampliare un pochettino il discorso cercare di parlarne meglio andare a integrare con le statistiche i giornali lo fanno perché oggi non sappiamo cosa scrivere c'è la pausa nazionale buttiamola su Zaniolo però secondo me un allenatore che ha Zaniolo in rosa è contentissimo perché ovunque gli serva lo mette se poi stanno tutti bene e lui vede che per esempio Pellegrini ecco Fonseca vede che Pellegrini nella zona tre quarti centrale prende troppo meglio di quanto non faccia nella zona mediana sacrifica un pochettino tra virgolette di più Zaniolo lo mette a destra per un motivo perché la squadra è sempre più importante sempre più importante sono d'accordo tra l'altro grazie per i complimenti però sono d'accordo anche secondo me soprattutto poi nel caso di Zaniolo al di là del fatto che poi sia riduttivo parlare di ruoli e su questo sono d'accordo però per quanto riguarda proprio il caso di Zaniolo sono ancora più d'accordo perché forse il caso di Zaniolo è emblematico cioè è un giocatore che ha una qualità talmente alta da saper fare bene e da potersi disimpegnare in tantissime zone del campo io dico che secondo me per le sue qualità deve stare vicino alla porta più possibile perché ha un gran tiro tira la caccia bene con entrambi i piedi come dicevi tu Benedetto non ha ancora l'ultimo passaggio non è lucido in quella giocata però è per esempio è molto bravo a gridire in avanti è molto forte fisicamente ha dribbling quindi se ha spazio è letale secondo me non ha ancora e non so se ce l'avrà ma questo poi ce lo dovrà dimostrare lui un'attitudine difensiva sufficiente per giocare per esempio da mezzala a grandissimi livelli ad altissimi livelli però magari poi è talmente giovane che potrà smentirci quindi anche secondo me diciamo che la zona di campo dove lo vedo meglio è sicuramente in una zona sulla tre quarti ecco dalla tre quarti in su perché non escludo anche altre collocazioni più vicine alla porta dall'altro mi collego al discorso di Zaniolo che è stato nominato tra insomma i venti finalisti del golden boy il premio che Tutto Sport assegna ogni anno al migliore giovane europeo vi chiedo dei venti finalisti rimasti qual è la vostra cinquina cinquina eh io parto dalla mia dai parto dalla mia così magari avete il tempo di un attimo io vi dico e ve li dico in ordine mi prendo la lista intanto così la cerco vai io lo dico dal dal quinto al primo al vincitore Kai Havertz il quinto Nicolò Zaniolo il quarto Giadon Sancho il terzo e poi testa a testa alla fine metto Mattis De Ligt al secondo posto e primo Joao Felix questi sono i miei cinque quindi Joao Felix golden boy adesso ditemi voi chi vuole andare per primo vado vado allora guarda io ti parto dal primo al quinto per me Joao Felix vince proprio in scioltezza vince in scioltezza secondo metto De Ligt perché comunque è stato protagonista deve contare anche i risultati dell'anno scorso è stato protagonista a 19 anni di una delle squadre più belle che si sono viste in Europa nonostante l'età e quindi secondo me il secondo posto è meritatissimo e tra l'altro ci tengo a dire sottolineo che secondo me sono anche ingenerose le critiche che sono arrivate a De Ligt in questo primo anno in questi primi mesi perché comunque ci si scorda sempre di che di che anno è e quanti anni ha poi ci metto sicuramente terzo Sancio del Borussia Dortmund che mi ha veramente impressionato ti metto ok al quarto posto ci metto quarto o quinto a me la mettiamo quarto Zaniolo e quinto Alain l'attaccante del del Salisburgo che mi sembra uno che vede tanto la porta quindi poi a quell'età esordire in questo modo in Champions League una tripletta in pochi minuti ha segnato ha segnato Enfield comunque anche non è che non è proprio una cosa banale devo dire che ci sono marchi importanti si vedono in questo giocatore questa è la mia cinquina vi hai detto? si per questo anno che ho votato Zaniolo sul sito di Tutto Sport penso è uno dei pochi casi in cui entri in quel sito ok ma più più per tifo che per convinzione però secondo me esatto ho votato Zaniolo per tigianeria per tigianeria anche perché se poi vai a vedere i risultati attuali il primo è Gendusi e lasciamo perdere che sarà è pure un bel giocatore ma vista la stagione che ha avuto l'Arsenal non ha neanche giocato così tanto non ha neanche giocato così bene il secondo è Mason Mav che ha giocato due mesi finora due mesi livello professionistico altissimi ma due mesi sono mi fa capire che gli inglesi si buttano come fanno sempre in questo sono bravi su una causa e vanno per vincerla e siccome allora io non sono uno che ama le cause perse voto a casa mia però poi tutti i romanisti votiamo in massa a Zaniolo non è che mi dispiacerebbe mi farebbe molto piacere se vincesse questo premio però non credo riuscirà però già essere fra i primi venti è un grande un grande successo io lo metto nella mia lista quinto quarto ad Herz che mi è sembrato un giocatore molto maturo un passettino più in alto di Zaniolo ha fatto un po' di partite in più già in nazionale se non sbaglio è quasi titolare fisso a me sembra veramente forte 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 terzo guardò la lista in basso perché me ne ho già scordato ho messo The Elite io l'anno scorso non l'avrei premiato quest'anno l'avrei pure premiato addirittura come primo per tutti i motivi che diceva Daniele e non aggiungo altro quella squadra è stata meravigliosa è stata una cosa che ci ha riconciliato col calcio per diversi mesi non solo gli anti-juventini proprio chi ama il calcio e credo che avrebbe meritato però io lo metto terzo perché secondo me Joao Felix secondo e infine Sancio primo sono stati proprio l'emblema del Golden Boy Sancio primo mi interessa questo Sancio ha fatto delle cose pazzesche per me ci sono stati 2-3 mesi l'anno scorso che è arrivato come un asteroide sul pianeta Terra una bomba è stato assurdo secondo me il giocatore del futuro è quello lì anche con un po' di amarezza per me che siamo usciuti con Totti cioè un giocatore un po' più lento però che giocava con due paia di occhi però ma più di Joao Felix eh sì perché secondo me ha fatto colpe figa insomma ha fatto tanto al di là di quello che ha fatto all'inizio di stagione con l'Atletico Madrid ma insomma in Portogallo ha fatto vedere tante cose la mia discriminante è quella il Portogallo capito ho capito quella è l'unica discriminante fermo restando che per me primo, secondo e terzo sono quasi equiparabili però io premirei lui anche perché se poi vai a vedere la storia di sto premio mi hanno vinto a giocatori tipo Renato Sanchez che si aveva vinto l'Europeo col Portogallo però quella stagione non è stato memorabile un giocatore come abbiamo visto questi giocatori qua cioè The Elite ha fatto una stagione in cui sostanzialmente poteva andare ad alzare la Champions League da capitano diverso quindi seguendo facendo un pronostico ecco di quello che potrebbe essere sì chiaramente poi quelle sono annate un po' strane credo capitino sempre un po' in tutti i premi l'anno in cui viene premiato un giocatore che tutto sommato non sembra avere questo tutti questi meriti due anni fa però se non ricordo mai l'ha vinto un ragazzino piuttosto interessante francese che giochi gioca discretamente Mbappé quindi Mbappé si è visto subito che era veramente Mbappé a che età a che età ha fatto il mondiale e l'ha deciso Mbappé a 19 anni 19 18 19 18 forse adesso ho il dubbio credo 18 però 18 perché c'era quel record con Pelelli che è quello che lui ha vinto un mondiale da protagonista a 18 anni da protagonista 19 anni credo se non ricordo male sì poi forse la compiuta un mondiale finito dopo un mesetto ragazzi parliamo di un giocatore che scusami poi sei andato a 180 milioni di euro quindi beh regalato dai la Roma non ci è arrivata per un soffio proprio c'era mercato Roma virgola Mbappé rinnova col con il previ eh ma guarda quelle sono sono perle mercato Roma Messi Messi rinnova col Barcellone con il Barcellone ragazzi io direi che andiamo a chiudere anche perché dai con tre quarti d'ora ci siamo abbiamo esaurito un po' tutti gli argomenti poi insomma se vorrete tra una settimana ci ritroveremo a questo Rudy Show questa fantastica trasmissione che insomma abbiamo ci siamo inventati in questa questa sera con Patrizio Cacciari eh io ricordo che potete trovare Romanista Razionale su Facebook sulla sua pagina tanto poi metteremo linkato il taggato al video i profili Benedetto Greco Match Analyst alla sua pagina sempre su Facebook e poi i ragazzi insomma scrivono in giro su parecchi posti e cominciando a seguirli su Facebook li scoprirete e niente grazie grazie a Daniele grazie mille a te e pure a Patrizio che ci ha abbandonato e pure a Cotumaccio che è aleggiato come presenza beh ma lo ritroveremo lo ritroveremo è una sfida una sfida che vogliamo vincere io e Riccardo adesso troveremo un modo per fargli partire per fargli funzionare Skype e un abbraccio grande a Benedetto che se io seguo la sua pagina con con molta frequenza e lo ritengo veramente uno dei pochi competenti veri che c'è in giro per 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 i social quindi tanti complimenti mi ha fatto piacere anche parlarci via Skype stasera quindi vi ringrazio anche di questo mi associo ai complimenti perché Benedetto sulla pagina fa un lavoro eccezionale con le sue schede molto belle sempre dettagliate e io spesso anche per i pezzi per Rudy prendo spunto cito sempre Benedetto non te rubo niente se è condivisione di cose di livello secondo me non c'è problema neanche a citare l'importante è che il livello si mantiene alto perché quello che proviamo penso a fare tutti con le pagine con il lavoro che fate voi su Rudy che fa Daniele che a volte mi ha risolto dei seri problemi perché dovete capire che quando si comincia a parlare di economia proprio stacco il cervello tipo Omer con le scimmiette lui proprio col cucchiaino e quindi ho capito tante cose sul fair play finanziario grazie a certi articoli perché altrimenti mi sarei sentito un'ignante perché uno che parla principalmente di calcio e non capisce di queste cose ormai purtroppo è così quindi quello che cerchiamo di fare è questo mi fa piacere di ricevere questi complimenti e soprattutto di parlare con voi di questo sport che amiamo in questa maniera bene grazie ragazzi buona serata a tutti buona serata ciao 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 ciao